Faccio il presidente solo se c'è un grande centro che si possa sviluppare nel settore giovanile. Ci sono ragazzi che stanno crescendo, ma in prospettiva è questo il nostro lavoro. Serietà e continuità porteranno i frutti, adesso cominciano ad arrivare i primi frutti. A proposito di Pordenone, una storica promozione in Serie B è un altrettanto terzo storico posto in un torneo Under-14 con una formula un po' particolare. Calci d'angoli a favore, batte il 10 da queste due parti. Quattro di c'è il limite dell'aria, l'8 e il 4 e il 3 rimangono. Per queste partite serve molta personalità. Greta andiamo in campo a vincere. Grazie! È un aiuto alla squadra, cercare di aiutare i nostri compagni a fare meglio e se sbagliano non... cercare di aiutarli su quello che sbagliano. è interessante fare questo ruolo, è divertente anche e in campo ci si sente più i liberi. visto, potrebbero veramente stare senza allenatore anche il progetto. Francesco Comuzzo Sui ragazzi fantastici perché si sono anche gestiti al meglio, cambi, non cambi, tempistiche veramente sono quasi sorpreso. E' molto emozionato perché se lo meritano. Grazie! Grazie!